Nessun rischio a chiusura, almeno non nell'imminente, ma certo la situazione dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate non è felice. Va detto però che ciò che sta accadendo non è una novità. L'ipotesi di ridimensionamento dei servizi era già stata paventata al momento della chiusura del Tribunale di Sala Consilina, dove in molti avevano evidenziato che laddove il Tribunale avesse chiuso le sue porte per l'accorpamento con altra sede giudiziaria avrebbe comportato una escalation di ridimensionamenti e chiusure di servizi che avrebbero poi portato il Vallo di Diano ad essere territorio totalmente dipendente da altre aree, a danno di cittadini e attività economiche. Una lotta blanda e poco motivata da parte di sindaci ed amministratori locali dell'epoca, unita ad una fragile e forse poco incisiva protesta di cittadini, ha portato quel settembre del 2013 alla consegna delle chiavi del Tribunale al Procuratore e al Presidente del Tribunale di Lago Negro, nella consapevolezza che il Vallo di Diano avrebbe dovuto difendersi strenuamente per avere salvi i servizi sul territorio. Quanto sta accadendo ora con l'Agenzia delle Entrate ne è la dimostrazione, sapendo anche che a Vallo della Lucania, dove è presente il Tribunale, non solo si è riusciti a salvare l'ufficio, ma è stato addirittura potenziato, avendo accolto gli addetti dell'ufficio di Agropoli che è stato addirittura soppresso nonostante più ampio di quello di Sala Consilina. L'ufficio di Sala Consilina all'epoca fu salvato, ma per effetto del ridimensionamento voluto dalla direzione provinciale finalizzato pari ad un efficientamento del servizio, perse il team controlli con conseguente ridimensionamento del numero degli addetti e la contestuale riduzione dei servizi offerti, che oggi è ridotta a soli servizi territoriali, senza dirigenti di area, ma con la sola presenza del direttore d'ufficio. 14 in totale dovrebbero essere dipendenti dell'ufficio di Sala Consilina, questo almeno quanto dichiarato dalla direzione provinciale definito sulla carta. Bisognerebbe capire qual è la situazione sui pensionamenti e se vi sono in atto sostituzioni. Certo è che senza il Tribunale ed in ottica di taglia la spesa pubblica, investire sul Vallo di Diano per una sede dell'Agenzia delle Entrate capace di offrire ampi servizi si rivela sempre più un'ipotesi fantasiosa. A dover pagare il prezzo più alto saranno cittadini, imprese e professionisti che già ad oggi sono costretti a spostarsi verso Salerno, verso Vallo della Lucania per i necessari adempimenti.